C'è il momento Valedirale Ciao siamo i One Mic, Ensi Regi e Raiden e stiamo mangiando un uovo di Pasqua questo è per Valedirale un training di freestyle per insegnarvi a fare freestyle da dove si parte? tipo dal cioccolato di uovo di Pasqua cioccolato bianco oppure fondente non mangiarlo troppo fa male al dente ti viene laccare e faccio le rime straordinarie dove riprendi? se ci sei adesso non basta sono talmente sfigato che non trovo mai una sorpresa nel uovo di Pasqua per Valedirale lo sai e lo sappiamo tu non fai il bacino e nemmeno il richiamo e va così che ne so di più più click sui canali di Valedirale che l'intero Youtube io lo faccio dritto da prima del medioevo sulle mani per Youtube e pure per Bevo se hai bisogno del freestyle chiedi ad Alex a Marco o a Iari non cantare Valedirale come i Dari straordinari abbiamo più parole che dentro un milione di dizionari questa è per vale rivale questa è per vale virale vale, 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 quanto vale? yeeeh bella vale alla prossima grazie a tutti